Possiediamo una cattiva abitudine che è quella di parlare, parlare, parlare senza fermarci, 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 senza fare pause, pause, pause. Da oggi voglio che tu butti fuori dalla finestra questa cattivissima abitudine. Perché? Perché quando facciamo una pausa possiamo respirare, perché quando facciamo una pausa possiamo riordinare le nostre idee, perché quando facciamo una pausa l'ascoltatore che abbiamo davanti entra in uno stato d'animo di aspettativa e di suspense. Quanto deve durare questa pausa? Beh, è facilissimo, giusto il tempo di dirvi Buon Natale!